La battaglia dei robot Da questa parte! Betty! Betty, passamela! Passamela! Bel comportamento! Dai, lista! Ciao, Betty! Che problema hanno? Voglio dire, stiamo vincendo o sbaglio? Forse diventeresti un po' più popolare fuori dal campo se cominciassi a passare la palla più spesso in campo. È un gioco di squadra! Il segnale? Tutti in campo! Io... devo andare! Ma inizia il secondo tempo! Lascio che anche le altre ragazze abbiano un po' di gloria! Gioco in una squadra, no? Ma si tratta del campionato, Betty! Atomic Betty, pronta rapporto! Atomic Betty, grazie al cielo! Maximus ha rapito la giovane imperatrice di Narcissi Ted e la trattiene in attesa del riscatto! Vi prego, liberatemi, signori! Sono caduta senza alcuna difesa nelle grinfie di Maximus! Ma è terribile! E c'è anche di peggio! Maximus ha chiesto al pianeta dell'imperatrice mille microtoni di cristalli nitomici in cambio della sua liberazione! Potrebbe fondere metà dell'universo con quelli! Esattamente! Betty, devi liberare l'imperatrice e assicurarti che quei cristalli non cadano nelle mani di Maximus! Sono pronta, ammiraglio! Così stiamo andando a salvare un'imperatrice! Chi aspetto avrà, secondo voi? Sicuramente regale! Questa è una missione, Sparky! Non un appuntamento al buio! Dimmi le novità! Le ultime dicono che Maximus nasconde l'imperatrice sul pianeta di Crashton! Crashton? X-Five! Che cosa succede? Il pianeta di Crashton è un incubo virtuale per l'intelligenza artificiale dove i proprietari sensibili abbandonano i robot quando sono vecchi! Quindi immagino che non ti piaccia neanche sentire la parola Crashton! Non è divertente, Sparky! Un pochino lo è! Al pianeta di... Insomma, lo sai, fai in fretta! D'accordo! Non abbiamo bisogno di quell'egoista! Posso guidare la squadra da sola! Io invece penso che ne avremmo bisogno Ma è orribile! Se i robot avessero gli incubi questo sarebbe un ragionevole facsimile E l'incubo è appena cominciato! Non starete pensando di usarle contro di noi, vero ragazzi? Siamo qui per cercare l'imperatrice Narcissi, Ted! Forse puoi aiutarci! Perché dovrei aiutare voi? Sei lo scomparso zio B-1? Sei proprio tu? E' mai possibile? L'ipote X-5! E' Maximus! Ma bene! Li faccio saltare in aria, vostra brutalità! Stanno cercando l'imperatrice e i miei cristalli! Destruggieteli! Tira piedi! Non mi fate paura! Ah, d'accordo! Vi aiuterò! Corriamo ai passaggi segreti! No! Che cos'hai? Stiamo ancora vincendo, no? Se per Maximus siete dei nemici, per me allora siete degli amici! Vi accompagnerò dall'imperatrice! Grazie B-1, rimane poco tempo! Ehi, non preoccuparti! Conosco questi tunnel come la ruggine che ho sul collo! Loro lo chiamano il crashtonatore! Maximus lo usa per raggruppare parti di robot che poi vende come rottami! Aiutatemi, mi prego! C'è l'imperatrice, là dietro! Aiuto! Scusate, siete voi i miei soccorretori? Ma certo, vostra regalissima imperatrice, siamo qui giunti per liberarvi! È l'ora di arrivare! Quanto tempo pensavate di lasciarmi su questo pianeta governato da robot? Senti tu, piccoletto, puoi dire a quelle ferramenta di stare più distanti? I robot mi fanno sternutira! Beh, non state lì impalati! Chi di voi salverà l'imperatrice? Tocca a lui! Truppe d'assalto! Dobbiamo portare fuori l'imperatrice e trovare i cristalli! Ma come facciamo? Ci serve un travestimento, prendiamo delle uniformi, apri quella porta, nipote, e segui il mio esempio! Taglie dalla più piccola alla più grande! Devo essere ancora circondata da robot! Portatemi subito via da Crashton! Non ora, X-Five! Dobbiamo sbrigarci! Il riscatto può arrivare da un momento all'altro! Inoltre, devo finire una partita di basket! Forse dovrei dedicarmi al gioco degli scacchi! Guardate! Stanno arrivando con il riscatto! Non possiamo andare laggiù! Ci sono troppe guardie! Ci vedrebbero! Spazi! Siamo guardie anche noi adesso! Consegnatemi i cristalli nitomici e vi restituirò l'imperatrice! Ma non vorrei deludervi! Ma noi non abbiamo più l'imperatrice! Già, ma loro non lo sanno! Consegnatemi i cristalli immediatamente! Bene! Espongo della potenza giusta per fondere un intero pianeta di robot! Non per molto! Ho preso i cristalli nitomici! Avanti, forze ribelli! Unitevi! Forze ribelli, unitevi! Robot! State lontano da me! E ciò! Robot ribelli con i cristalli nitomici! Preferisco essere rapita da voi che restare qui con loro! Preferisco Maximus a noi! È difficile non sentirsi offesi! Penso che adesso sia Maximus quello che deve essere salvato! Beh, date un'occhiata! Caro Maximus, riguardo al riscatto per il rilascio dell'imperatrice... Tenetevela, non importa! Quello che voglio dire... Un conto è essere rapita da uno spregevole alieno di bassa estrazione come voi! Ma essere salvata da ripugnanti robot? Mai! Un'imperatrice ha dei valori! Chiama subito la nave dei Narcissitad! Che vengono a riprendersela immediatamente anche paganda! Trovami delle cuffie! Sicuro di non voler venire con noi? No, i robot hanno bisogno che resti qui con loro! Chi altri prenderebbe le loro difese? Forse ci vedremo ancora, azione! Quando mi succederà il nuovo XSX? Non credo che avverrà! Sei un robot troppo in gamba per finire su Crashton, lo sai? Ehi, non sei ancora svenuto! Con te qui, zio! Crashton non mi fa più paura! Com'è commovente! Andiamo, ragazzi! Devo vincere quella partita! Oh, no! Stiamo perdendo e mancano solo cinque secondi! È arrivata Miss Egoista! Possiamo anche metterci a sedere! Penelope, prendi! Oh, no! Sì! Ehi! Hai imparato a passare la palla! Già! Il problema di una squadra è che non puoi scegliere chi ne farà parte! È arrivata Miss Egoista! Ciao! Call me up! I'm your girl! Tass is chick in the alien world! Ain't got time for pink and lace! This girl's built for outer space! Atomic Betty and the fighting girl! Atomic Betty gotta rock your world! Atomic Betty, atomic Betty! Atomic Betty, atomic Betty! Atomic Betty, you're galactic girl! Atomic Betty, you're galactic girl! Atomic Betty, atomic Betty!